Gentili telespettatori, buona giornata. Calenda strizza l'occhio al centrodestra. Dice chiaramente meglio il centrodestra che una sinistra gestita da Ellie Schlein. Diciamo che in Italia ormai gli italiani hanno capito che bisogna scegliere il meno peggio. Io credo che alle prossime elezioni, fra quattro anni e mezzo, l'affluenza sarà così bassa, ma così bassa, da diventare storica. Perché quelli che hanno votato questa volta, credo che alle prossime elezioni non sapranno più chi votare. Calenda dice che noi siamo al centro, guardiamo a destra e guardiamo a sinistra. La sinistra con la Schlein diventa una specie di centro sociale, peggio di quello che era prima. A questo punto è meglio la destra che la sinistra, perché tra un centro sociale e una destra preferisco la destra. Questo è quello che pensano oggi molti. Tra destra e sinistra preferisco la destra piuttosto che una sinistra da centro sociale. Calenda è in attesa e ha quattro anni e mezzo di tempo per riuscire a spostare gran parte dell'elettorato scontento del PD, che si ritrova in un centro sociale e non più in un partito, riuscire a spostarlo nel suo partito. Se non dovesse riuscirci entro questi quattro anni e mezzo può anche chiudere Baracca e Burattini perché il progetto sarebbe fallito. Questa è l'occasione della vita di Calenda. Per lui la Schlein a capo del PD è il regalo più grande che poteva avere, perché per lui è un aiuto pazzesco. Cosa poteva capitare di meglio di un nuovo segretario stile zainetto e centro sociale? Per lui è il massimo, perché dice che l'elettorato che non è da centro sociale del PD, tutti quegli intellettuali eccetera eccetera acculturati probabilmente si sposteranno con me in questi quattro anni e mezzo e lasceranno perdere zainetto e centri sociali. Che è quello che penso anch'io, però oggi l'effetto Schlein sta facendo salire il PD. E' risalito al 21%, da quando è stata eletta la Schlein il PD ha recuperato il 5,2% di punti percentuali. E' cresciuto del 33% il partito. Forse è l'effetto Schlein che andrà a sgonfiarsi quando continuerà a parlare sempre delle solite cose, dei soliti diritti sociali eccetera eccetera. Forse si sgonfierà? Perché l'effetto immediato di un ulteriore crollo, cioè il fatto che all'arrivo della Schlein non un più 5 ma un meno 5, quel 5 passasse poi a Calenda e Calenda dall'8 diventasse un partito doppia cifra, non è avvenuto. Calenda si starà chiedendo perché l'elettorato di sinistra adesso torna dai 5 stelle verso un partito diventato centro sociale e non viene da me che sono uno perlomeno che ha una visione più corretta, non da centro sociale, non da destra, ma una visione proprio da centro. Quasi trasversale in effetti, non lo ha capito neanche lui, è in attesa, attendere prego degli eventi per vedere quello che succede. Pertanto lui oggi ha una strategia di equidistanza tra destra e sinistra, in nome di una politica fatta di scelte pragmatiche e non ideologiche, quindi dall'interesse nazionale. Ecco, questa è l'idea di politica di Calenda, non sono, non penso e non dico una cosa per un muro ideologico, per una presa di posizione ideologica, ma lo dico solo nell'interesse nazionale, per come la penso io, dice Calenda, che è l'atteggiamento giusto, guardate, stavo guardando un programma di politica e vedo che gli ospiti vengono divisi due di qua per il centro-destra, due di qua per il centro-sinistra e il conduttore lì in mezzo, ma proprio fisicamente in mezzo, la parola a uno, poi all'altro, poi all'altro, poi all'altro, e vedo, si parla di immigrazioni, maternità surrogate, tutte queste cose qua, e vedo che l'ospite di centro-destra, che magari è un giornalista o un opinionista, insomma, l'ospite di centro-destra nella trasmissione diventa il paladino difensore dell'area politica, lo vedete proprio con la faccia agguerrita, incattivita, che deve ribattere a ogni cosa che dice quello dall'altra parte. Quindi, ci sono temi dove probabilmente tutti la pensano allo stesso modo, ma in quel caso quelli di destra diventano i paladini della destra, quelli di sinistra diventano i paladini della sinistra, perché? Per opportunismo. Sono in televisione, sicuramente mi guardano i politici, io faccio vedere chi sono, faccio vedere che so parlare in un certo modo, che so ribattere a quelli di sinistra, magari già mi conoscono, ma potrebbero apprezzare il mio intervento in difesa di questo o di quell'altro, e magari posso anche ricevere una telefonata, posso essere candidato in Parlamento, posso fare il salto da giornalista deputato. Ecco, quindi si vedono nelle trasmissioni persone che potrebbero avere esattamente le stesse opinioni, ma non le vogliono vedere e sono lì per vincere sull'altra parte. Non importa l'argomento, l'importante è vincere per farsi vedere dal politico di riferimento. L'ho visto proprio l'altra sera, si parlava di maternità surrogata, di immigrazione, e vedevi che le due parti dovevano mantenere la loro parte politica con, si vedeva, lo scopo era quello di farsi vedere, farsi notare, dai politici che sicuramente stavano guardando la diatriba. Un po' come se fosse stato un match, un match di calcio, no? Noi contro loro, 1-0, abbiamo pareggiato, eh, qui non ha saputo rispondere. Ma si vedeva chiaramente che anche quelli che sostenevano una tesi, in realtà non credevano a quella tesi. Era solo una tesi politicamente schierata. Quindi ripetevano una parte, raccontavano una parte a cui non credevano. Si vedeva proprio dalle facce, no? Vedevi che dall'altra parte dicevano una cosa e avrebbero voluto dire, Beh sì, hai ragione, invece no, no, tu, però vedevi dalla faccia del prima e la faccia del dopo, si vedeva proprio che la pensava esattamente come l'altro, ma doveva dimostrare alla sua parte politica che lui è un vero difensore che meriterebbe magari un ringraziamento, eh? Veramente penoso, veramente penoso. E ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie.